Sì, e com'è possibile? Vabbè, vabbè arrivo eh, arrivo subito, sì. Eh tesoro ti dispiace se annunghiamo un attimino? Tengo un problema con un cliente, sì. Comunque mi dispiace che non ti hanno preso, mi devi credere. Avvocato Pedicini, e allora? Ingegni, ho parlato con l'agenzia, la scuola che avevamo prenotato per le sedici non si trova. Queste ragazze dell'est sono inaffidabili. Ma che cosa si fa tutta a monte? Ma che avvocato è lei? Come mi assiste? Ingegni, gli faccio l'avvocato, mi faccio fa pure. Vabbè, comunque vedo che è risolto. Risolto? Ma che c'è risolto? Ingegni? Vieni fuori, coccane. Dove sei? Caragovia, Bratislava, Budapest? No, De Centocelle. Ah, finalmente, la bella strappone italiana, va. Ma che dice? Bravo avvocato, vedi, quando ci si mette questa è perfetta, guarda che borrace. Eh no, ingegnere, guardi che siamo caduti in un grandissimo equivoco. La signorina è la mia fidanzata, Giovanna Bertocchi, la mia futura moglie. Ah, la fidanzata. Peccato, perché il fisico ce l'avrebbe. Ma non lo dica neanche, Giovanna non farà mai quella parte. Parte? Che parte? No, adesso ma noi dobbiamo preoccupare sciocchezza, non ci pensare.